ancora sangue sulle strade muore giovane papà sulla monte labatese arretramento ferrovia prende corpo il progetto sognato da ricci la pesaro che verrà allo studio degli stati generali di midterra buelle più forte del covid strepitosa vittoria su milano una buona serata amiche amici di rossini tv e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale delle canale 633 delle digitale terrestre notiziario che in questa edizione del lunedì 17 gennaio apriamo come potuto avete potuto ascoltare dai titoli con un'altra notizia di sangue sulle strade nella notte fra sabato e domenica infatti morto schiantandosi contro un guardrail della monte labatese cristian fiocca 37enne giovane papà di una bambina e autotrasportatore dell'azienda guerra cristian fiocca è a bordo di una y10 è deceduto alla rotatoria di intersezione con via mazzini per arrivare nel centro di monte labate un sinistro fatale avvenuto poco dopo le 4.30 di notte quando cristian che viaggiava solo stava rientrando nella sua casa di osteria nuova dopo una serata trascorsa con amici per cause ancora in via d'accertamento il giovane ha perso il controllo della vettura saltando il rondò e schiantandosi contro le barriere sul posto carabinieri 118 vigili del fuoco impegnati nelle complesse operazioni di estrazione del corpo dalle lamiere dolore e sgomento fra pesero sterea nuova e padiglione di tavuglia dove cristian aveva familiari e tanti amici e parliamo anche di un altro lutto che ha funestato il fine settimana un decesso che ha tirato anche l'attenzione dei media nazionali per la sua drammatica singolarità quello di cristina calzoni 46 anni di gabice mare che per ben due volte fra settembre e novembre è stata morsa alla schiena da un ragno violino mentre era impegnata nelle sue mansioni da volontaria in un gattile sul parco san bartolo da mesi la calzone era infatti sottoposta ad una terapia farmacologica antidolorifica e venerdì sera è deceduta in seguito a un malore improvviso sul pavimento di casa ora si attende l'esito dell'autopsia per verificare le esatte cause del decesso e cambiamo argomento fra le tante opere pubbliche delle comune di pesaro ce n'è una che fino a qualche anno fa era reputata assolutamente visionaria ovvero l'idea dell'arretramento della ferrovia dalla costa verso le aree interne della città di pesaro idea non più così tanto visionaria secondo il sindaco di pesaro matteo ricci che agli stati generali di midterm tenutisi sabato ha voluto enfatizzare gli argomenti a sostegno di questa possibilità allo sperimentale di pesaro gli stati generali di midterm si sono conclusi con una bomba sganciata da matteo ricci su un vecchio progetto tanto visionario quanto reputato impraticabile almeno fino a sabato sera ovvero l'arretramento della ferrovia dal mare trasformando la corsa dei binari dalla costa ad una direttrice parallela all'autostrada e ipotesi altrettanto clamorosa traslocando l'attuale stazione ferroviaria al confine fra villa san martino villa fastigi e strada dei cacciatori grosso modo ai margini dell'interquartieri all'altezza del bar pasticceria cantuccio non una sparata ma secondo ricci un'ipotesi circostanziata su investimenti concreti quanto convinte sono le intenzioni del ministro dell'infrastruttura giovannini di mettere 5 miliardi di euro sul potenziamento della tratta ferroviaria bologna-bari un'ambizione che gode di un'attenzione particolare al progetto presentato da pesaro area geografica dove l'alta velocità si scontra con una serpentina dalla costa a gradara che costringe ad un forte rallentamento c'è questa grande novità che nella legge di bilancio sono stati stanziati 5 miliardi per il potenziamento e la velocizzazione della bologna-bari e noi abbiamo presentato ufficialmente il nostro progetto di fattibilità di arretramento della ferrovia di pesaro progetto che abbiamo sviluppato con ferrovie dello stato e al quale abbiamo abbinato anche un progetto di trasformazione dall'attuale assetto della ferrovia in passante verde sembrava una butà poi un sogno ora ci sono 5 miliardi dobbiamo essere bravi ad andare a prendere la nostra parte perché se riusciremo a prendere la parte che ci spetta dentro quei 5 miliardi potremo lasciare questo grande progetto fondamentale per la viabilità per la mobilità fondamentale per il trasporto merci che può cambiare la città renderla sempre più verde più sostenibile e più competitiva sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di una marea di finanziamenti che abbiamo portato che porteremo da lasciare a chi verrà dopo di noi ma che potrebbe davvero cambiare la città incrociamo le dita però siamo ben posizionati perché ora ci sono le risorse e il nostro progetto è in cima alle priorità che il ministero delle infrastrutture sta visionando insomma un progetto per una costa sgombra da minari con una stazione di pesaro decentralizzata ma non troppo periferica e con un potenziamento commerciale per un carico di container merci oggi impraticabile negli spazi ridotti della stazione attuale realizzabile invece nella futura destinazione che darebbe un'importante alternativa al trasporto su gomma ricci lancia la sfida e trova già alleati nei più interessati al progetto massimo seri e nicola barbieri sindaci di fan e mondolfo comuni coinvolti dalla tratta costiera e che entrano già nella partita e l'idea dell'arretramento dei binari così come quella di una nuova stazione ferroviaria sono stati la sorpresa lanciata al termine di sette ore di stati generali di midterm in cui tutti gli assessori del comune di pesaro hanno incontrato cittadinanza e associazioni per progettare con un lavoro di squadra la pesaro che verrà vediamo dagli stati generali di midterm la giunta comunale di matteo ricci riemerge con un faldone di idee progetti proposte e suggestioni per la pesaro che verrà 250 persone fra cittadini associazioni stakeholder hanno partecipato sabato agli otto tavoli di lavoro tematici prolungatisi per sette ore e divisi fra palazzi cittadini inizio e fine lavori al teatro sperimentale sotto la supervisione di matteo ricci che innesca così i suoi due anni e mezzo conclusivi della fine del mandato da primo cittadino abbiamo bisogno di grande compattezza la squadra che abbiamo messo in campo è molto dinamica e molto compatta e al tempo stesso abbiamo bisogno che le persone ci stiano vicino come hanno fatto oggi con attraverso le loro idee le loro critiche il loro contributo perché soltanto coinvolgendo più persone possibile riusciremo a rendere consapevole la città delle sfide che abbiamo e soprattutto riusciremo a vincere per questo ripeteremo un appuntamento come questo troveremo il forma giusto esclusivamente con i giovani della città tante idee unite da un filo conduttore la coesistenza e il superamento dell'emergenza sanitaria l'oculatezza nelle gestire i fondi in arrivo dal PNRR Saranno due anni e mezzo molto delicati perché il comune di Pesaro sta continuando a portare a casa tantissime risorse importantissime per rilanciare una stagione degli investimenti pubblici nuova in questi due anni e mezzo dovremo essere tutti impegnati pancia a terra come si dice a testa bassa per vedere realizzate e vedere messe a cantiere quantomeno grandi progetti grandi investimenti pubblici per la città Gli investimenti sono il modo più forte, la leva più importante che hanno gli enti locali, i comuni per portare ricchezza, generare ricchezza e rilanciare quindi un modello di sviluppo nuovo in città e quindi avremo due anni e mezzo su cui ci concentreremo in particolare per chiudere quei cantieri che sono rimasti aperti e quindi dare quel tipo di slancio per ripensare alla città del domani Assessori al lavoro anche alla presa con il cambio di deleghe come quella del bilancio rimbalzata da Pozzi a Nobili Sicuramente una delega importante, la fortuna è che il comune di Pesaro ha un bilancio sano, tante risorse da investire da investire bene come è stato fatto in questi anni un problema importante, un problema grosso sarà il rincaro delle bollette quindi sia per quanto riguarda il riscaldamento che l'energia elettrica stiamo già guardando come fare, stiamo facendo anche un po' di conti il sindaco Ricci ha già fatto delle richieste tramite ali al governo speriamo di avere delle risposte positive per non andare a gravare sul bilancio complessivo e andare in qualche modo a dover mettere mano ad altri servizi e alla persona che è la cosa che assolutamente non vorremmo fare per anzi mantenere e aumentare quelli che sono i servizi I stati generali hanno anche offerto un dialogo proficuo agli ultimi arrivati Luca Pandolfi e Camilla Murgia promossi ad Assessori negli ultimi giorni del 2021 Per me oggi è sicuramente un modo per farmi conoscere, per presentare anche delle nuove idee e dei nuovi progetti, delle nuove linee di azione che possono nascere da questo incontro che poi verrà approfondito nelle prossime settimane dandomi anche il tempo per conoscere esattamente tutto quello che è il mondo dell'assessorato Al centro di tutto però ci sono stati i temi, le grandi opere, i tanti cantieri in ballo, la viabilità ciclabile il sostegno a sport, cultura, turismo, le tematiche ambientali e l'università Abbiamo fatto da collante per le università e fare in modo che nella nostra città ci sia l'attrattiva di giovani perché pensiamo al turismo ma demograficamente stiamo scendendo quindi dobbiamo sì pensare a delle attrattive che riguardano il turismo e la cultura ma è anche fondamentale avere i giovani, i giovani che sono all'interno della nostra città e che possano creare un indotto Prima tra tutti è la bonifica dell'examga che sta procedendo molto bene i tempi sono stati rispettati e le imprese stanno lavorando in maniera egregia per cui sono molto soddisfatta di questo intervento La seconda è l'approvazione del piano d'ambito dei rifiuti che è stato un percorso condiviso con tutti i sindaci dell'ambito per cui è scaturito da tutto questo confronto, durato mesi a un documento che è stato approvato poi dall'ambito stesso e che vedrà i prossimi passi quelli di spingere Pesaro verso la tariffa puntuale quindi con dei cassonetti intelligenti e tutto un percorso per arrivare proprio a questo obiettivo 585 tamponi effettuati, 49 casi di contagio scoperti questo il bilancio dello screening di tamponi gratuiti per i ragazzi delle scuole superiori effettuato fra sabato e domenica nei punti drive tamponi di Pesaro, Fano e Urbino in questa manifestazione di screening organizzata dalla Regione Marche su tutto il territorio anche oggi invece i dati dei contagi generali nelle Marche continuano a mostrare cifre molto alte con il 40% di tamponi positivi al Covid come testimoniato dai 2012 contagi di oggi di cui 445 in provincia di Pesaro Urbino l'incidenza da contagio si alza ora a 1919 casi di contagio ogni 100.000 abitanti continuano a crescere anche i ricoveri con 343 pazienti in degenza cioè 5 più di ieri di cui 64 in terapia intensiva dato che invece è cresciuto di due unità 3 i decessi, un uomo di 64 anni di Pesaro, uno di 65 di Porto Sant'Elpidio e una donna di 84 anni di Senigallia Monti, Catria e Nerone letteralmente presi d'assalto in questo weekend da tanti visitatori che intendevano trascorrere qualche ora sulla neve una giornata particolarmente frenetica a frontone dove alle pendici del Catria l'incredibile afflusso di persone ha creato un congestionamento di traffico nella strada che conduce all'impianto di risalita con due ore di fila per accedere alla cabinovia non solo nel pomeriggio i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per fornire assistenza a circa 100 persone rimaste per oltre 20 minuti appese lungo la tratta della cabinovia bloccatasi per un guasto tecnico super lavoro anche per le forze dell'ordine con anche il Monte Nerone preso d'assalto con tanta gente sulla cima del rifugio Corsini e tante auto bloccate in fila per accedervi e torniamo su Pesaro dove per importanti interventi di ammodernamento del sistema fognario in centro storico interventi che saranno effettuati da Marche Multiservizi dalle ore 21 di giovedì 20 gennaio alle 6 di mattina di venerdì 21 gennaio sarà sospesa l'acqua potabile e il servizio fognario nella centralissima via Branca dal civico 23 al 5 e dal 36 al 12 sarà dunque vietato l'utilizzo di lavandini, docce, vasche, lavastoviglie e lavatrici in questa fascia oraria ci spostiamo a San Costanzo dove sabato è stata inaugurata la nuova piazza dedicata a Padre Pio un importante intervento di riqualificazione presentato proprio nel giorno del patrono di San Costanzo come ci spiega il servizio del nostro Simone Celli Prima un minuto di silenzio in memoria del compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli, poi l'inno nazionale suonato dall'associazione musicale La Concordia è cominciata così sabato mattina la duplice festa di San Costanzo da un lato le celebrazioni per il santo patrono dall'altro l'inaugurazione della nuova piazza dedicata a Padre Pio proprio al cuore del piccolo e grazioso borgo di fronte a una platea di circa 200 persone Per un sindaco è sempre un momento particolarmente importante inaugurare un'opera pubblica come oggi una piazza, oggi lo è doppiamente perché questa inaugurazione importante per tutta la nostra comunità avviene proprio nel giorno del nostro santo patrono San Costanzo Martire Ridoniamo alla collettività uno spazio molto importante all'interno delle mura castellane del capoluogo di San Costanzo, dove c'erano strade e pavimentazioni sicuramente non consone all'interno di un castello così importante, all'interno di uno dei borghi più belli della regione Marche quale è San Costanzo, Cerasa e quali sono Stacciola che sono già state ristrutturate negli anni passati Un lavoro molto importante, un progetto per cui la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale nel 2020 hanno stanziato 300.000 euro e hanno visto la progettazione interna al 100% dell'ufficio tecnico del Comune di San Costanzo quindi senza ulteriori aggravi economici per poter far fare il progetto esternamente Il progetto è stato redatto dall'architetto Fabrizio Carbonari che è responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Costanzo e come vedete il risultato è questo Dalla pavimentazione in asfalto e calcestruzzo a un selciato in pietra arenaria per non parlare poi della nuova illuminazione e delle telecamere di prossima installazione Comincia da qui la seconda giovinezza di questo luogo di incontro e di socialità pronto ad accogliere persone ed eventi non appena il Covid lo consentirà Una piazza ritrovata grazie alla volontà dell'amministrazione comunale ma anche come ricordato dal Vescovo Armando Trasarti al lavoro di quegli operai il cui sudore resta fin troppo spesso dietro le quinte Pietraselce, arenaria, il Trani che è questa pietra bianca che a raggi parte dalla collegiata dei Santi Cristoforo Uncostanzo come sentite dalle mie parole è un lavoro che ci rende veramente tanto orgogliosi che la nostra comunità ci chiedeva da tanti anni finalmente siamo riusciti a realizzarlo Due momenti importanti uno intanto una socialità ritrovata in questo momento dove la pandemia pur ancora mordendo fortemente riusciamo a mantenerla sotto controllo abbastanza bene grazie ai vaccini ecco questo è il modo per riprendere anche quella socialità cioè il fatto proprio della piazza come punto di incontro di socializzazione tra le persone ecco quindi aver ristrutturato e rimesso a nuovo una piazza vuol dire riprendere un'attività di vita di socialità importante poi ho anche messo in risalto il fatto che tra le centinaia di borghi meravigliosi che noi abbiamo in questa regione occorre sempre di più valorizzarli e renderli fruibili e anche qui oggi a San Costanzo vediamo un segno importante in questo senso il miglioramento diciamo così della manutenzione e una ristrutturazione di una piazza all'interno di un borgo storico vuol dire ridare ancora di più vita a quel borgo e ridare quindi più vita anche all'economia stessa, al turismo, alla partecipazione di tutti alla socialità in questa nostra splendida regione ed ora parliamo anche di fotografia perché a Pesaro in via Branca nella piccola galleria comunale San Domenico sarà in mostra fino al 23 gennaio l'esposizione personale il molo di Pesaro nel mondo realizzata dal fotografo Sergio Palmieri mostra in cui c'è una foto molto particolare che ha riscosso l'attenzione di fotografi da tutto il mondo quando sono arrivato a Pesaro ho rimasto incantato di quel molo che sta giù di fronte ai canteri Rossini quando lo vedi un bellissimo l'ho sempre fotografato però ho detto ci manca qualcosa per renderlo superlativo e così quest'estate a giugno invitai una ragazza ad aiutarmi a collaborare per fare queste foto e ho iniziato praticamente a scattare tutte queste foto mettendo inserendo il dettaglio che sono le gambe della ragazza queste foto devo dirlo nella verità le feci vedere subito dopo fotografate a Lorenzo Uccellini io andai da lui gli portai tutte le foto lui disse Sergio stampa immediatamente questa foto praticamente perché è superlativa siccome tra me lui c'è un rapporto di stima e di fiducia io immediatamente feci stampare le foto le ho pubblicate prima sui gruppi italiani e andarono molto molto bene dopodiché sai voi per la competizione non vuoi per l'invidia alcuni mi dissero sì però tu se vuoi realmente renderti conto di questo successo di questa foto anzi usarono proprio un termine un po' particolare cioè tu fai lo sbruffone qua ma se vuoi realmente vedere e capire che le tue foto siano realmente di un certo livello devi presentare sui gruppi più importanti al mondo di fotografia accetta la sfida e così la postai su street level photography poi vedi l'approvazione dopo l'approvazione in 48 ore la foto raggiunge i 500 like con un mare di condivisioni disse è possibile? iniziai a capire che questa foto era talmente piaciuta e condivisa che le iniziamo a vedere in tutte le parti del mondo così la presentai sui gruppi mondiali di fotografia e sinceramente sbancai questa foto non solo sbancava tutti a livello di like ma era condivisa in tutto il mondo cioè diciamo oggi è la foto più vista al mondo sui gruppi più importanti di fotografia stanto in questa mostra erano mesi che praticamente non la postavo l'ho postata sul gruppo di Enrico Artibresson e su Magnum Photo sono due giorni già superiamo i 500 like e questa foto sul gruppo street photography di Enrico Artibresson sta superando proprio le foto dei grandi fotografi conosciute negli anni 50 cioè quelle di Enrico Artibresson, Robert Capa e mi sembra quasi di vivere un sogno adesso l'unica cosa alla fine di questa mostra vorrei diciamo donare questa foto a Pesaro perché giustamente è scattata al molo di Pesaro però la vorrei lasciare in un posto dove praticamente è visibile a tutti cioè non lo so ancora tutto da decidere però una cosa è certa che questa foto la lascerò a Pesaro Ed ora lo sport era davvero difficile immaginare un biglietto da visita al 2022 migliore per la VL la squadra di banchi infatti non solo ha battuto Milano ma l'ha fatto dopo due settimane costantemente alle prese con contagi da Covid-19 e tamponi Se il buongiorno si vede dal mattino il mezzogiorno domenicale della Carpegna Prosciutto Basket apre gli scenari a un 2022 davvero intrigante per la VL che al debutto dell'anno nuovo si regala una vittoria monumentale non solo perché si è presa lo scalpo più eccellente quello dell'Armani Milano di coach Messina ma perché ha vinto dopo due settimane trascorse più a guardare le risultanze dei tamponi che alla vagnette tattiche con la quotidiana conta dei presenti in palestra fra positivi e negativizzati al Covid-19 una conta che ha escluso Zanotti dal match con l'Armani ma che ha mandato in campo compagni andati oltre ogni previsione a cominciare dalle prestazioni stratosferiche di Tambone e Moretti a quelle robuste di Jones e Sanford la VL vince andando oltre la fatica dell'overtime con uno 85-82 che manda invisibilio la Vitrifrigo Arena e che dispensa cori per coach banchi che a sua volta dirotta i meriti altrove diamo merito a chi ha saputo gestire si parla di grandi professionisti questa condizione di emergenza con grandi capacità perché parlo del nostro staff medico fisioterapico il nostro preparatore atletico e tutti quelli che hanno lavorato per cercare di tenere in tensione una squadra che stava vivendo una situazione così assurda alla vigilia di una partita a cui tutti tenevano tantissimo e l'altro merito diamolo ai ragazzi perché hanno prodotto uno sforzo combinato a una qualità di rendimento pazzesca e credetemi per me sorprendente perché io so come eravamo solamente ieri in palestra e vederli stasera è stato un motivo di grande orgoglio e soddisfazione quindi è giusto riconoscere a loro io mi sono limitato a cercare di sostenerli lungo il percorso di una gara dove noi minuto dopo minuto prendevamo consapevolezza al di là delle difficoltà anche in termini di falli di rendimento con uomini che non erano veramente in grado di stare in campo però prendevamo consapevolezza di poterci e volerci provare fino alla fine è stato bello anche se è arrivata una vittoria perché aver avuto una bella sconfitta mi sarebbe dispiaciuto molto perché avrebbe lasciato quel senso di quasi soddisfazione e non avrebbe mosso la nostra classifica che ha tremendamente bisogno di essere migliorata col covid ha dovuto farci conti anche la Megabox Vallefoglia ma per le Tigri Biancoverdi il ritorno in campo dopo un mese è stato con molti più affanni a Busto Arsizio la Megabox cede infatti in 3-7 e continua a fare i conti con una classifica complicata e si conclude qui questa nostra edizione del notiziario Rossini News vi ricordiamo la nostra prima serata alle 21.20 in questo lunedì 17 gennaio come ogni lunedì l'appuntamento è con Check Up Obiettivo Salute il nostro format realizzato in collaborazione con Fisiorati Medical Center puntata di questa sera dedicata a oncologia e prevenzione delle malattie dell'osso puntata che sarà in compagnia del dottor Sebastiano Calpona medico chirurgo specialista proprio in oncologia appuntamento alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi tante repliche dal martedì alla domenica come potete vedere in grafica l'informazione su Rossini TV torna invece puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra consueta rassegna stampa che vi tiene compagnia nelle prime ore del mattino dal lunedì al sabato appuntamento come sempre in diretta alle 7.20 ci sarà la nostra Emanuela Rossi a tenervi compagnia nell'edizione di questo martedì ed è davvero tutto invece per questa nostra edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la relazione vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi